andiamo ad assemblare un nuovo pc in realtà la componentistica la conoscete benissimo come nuovi componenti ci sono solamente il dissipatore della endorfi modello navis f360 ed un fantastico endorfi rx 700 air con le ventole nere totalmente black quindi faremo una build totalmente black edition come prima cosa andiamo a inserire l'alimentatore all'interno del case inseriamo la scheda madre e andiamo ad avvitare tutte le viti della scheda madre installiamo il dissipatore nella parte alta andiamo ad applicare la pasta termica e poi colleghiamo il waterblock colleghiamo il cavo di alimentazione della scheda madre usb tepsi frontale la 3.0 e anche l'audio ora andiamo a montare la scheda video e beh ragazzi il tutto è perfettamente collegato e montato in versione total black attualmente ci sono solo le ramme accese ma le spegnerò presto e cosa ne pensate di questo pc